io voglio solo dare una direzione alla mia vita non lasciarla andare così dove le pare e che vada nella direzione che io scelgo non in quella verso la quale la spingono gli altri quanti vorrebbero farlo quanti vorrebbero dare una direzione alla propria vita ma sono troppo deboli per farlo oppure ci sono fattori esterni che incanalano le loro vite in direzioni terribili e non ce la fanno poveracci e sono trascinati altrove da quelle correnti